Il mio lavoro consiste nella produzione e nel controllare che tutto quello che riguarda la produzione fili. Da cinque anni più o meno siamo diventati molto più grandi rispetto agli anni passati e è cambiato tutto oltre la produzione, i macchinari, più o meno tutto. In questo laboratorio produciamo pasta ripiena, ravioli in generale, pasta lunga, fettuccine, taglierini e quant'altro, gnocchi, troffie, tortellini, cappelletti. La caratteristica è la precisione, se c'è un po' di velocità ma perlomeno la precisione.